Oh la, finalmente ci siamo, non ci credo, non ci credo, facciamo uno speciale Bam, 200 iscritti, che figo, bello, cioè vabbè, vabbè, dai cominciamo Bella a tutti Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gianni Miau E facciamo questo video per lo speciale 200 iscritti Questo per ringraziare tutti quanti quelli che si sono iscritti al canale, tutti quanti quelli che mi seguono 200 e tanto e poco, cioè probabilmente paragonato ai big, sono una cicca che si è attaccata sotto la scarpa Ecco, non è che sono grande, però insomma per me vuol dire tanto, ho iniziato onestamente così tanto per E quindi volevo ringraziare tutti quanti per questi 200 iscritti E finalmente appunto esce fuori lo speciale delle sponsorizzazioni Infatti mi avete commentato in tantissimi, avete lasciato l'hashtag, io vi ringrazio ragazzi, vi siete iscritti Mi raccomando, rimanete attivi e vi ricordo che se volete essere sponsorizzati anche voi, quindi volete che il vostro canale cresca e abbia tantissimi iscritti Dovete lasciare sotto nei commenti l'hashtag, questo, questo hashtag, con scritto ciao Gianni Miau Iscrivervi al canale e lasciare un bel like Mi raccomando, se vi iscrivete io posso sponsorizzarvi se vi vedono gli iscritti Se al massimo non vi vedo io, beh, ve lo scrivo, il bello di Youtube è proprio questo di poter interagire Quindi possiamo proprio parlarci, scriverci E se in caso non vi dovessi vedere ve lo scrivo, provate a guardare magari nella privacy Perché nella privacy c'è proprio la spunta da levare dove c'è scritto tieni nascoste le mie iscrizioni Ecco quella spunta levata in maniera tale che vi posso vedere e posso sponsorizzarvi nel video delle sponsorizzazioni Detto questo io non perderei altro tempo, andrei immediatamente quindi a fare una bella sponsorizzazione Ci vediamo tra pochissimo dentro il computer, bello ragazzi? Oh eccoci qui ragazzi, allora siamo pronti allora per questo video delle sponsorizzazioni Allora siamo sulla mia pagina, quindi oggi faremo la sponsorizzazione di 20 canali di Youtubers Oh yeah! Allora prima di cominciare tutto quanto, allora troverete naturalmente tutto quanto il link in descrizione Perdonatemi per l'audio, però non sto usando l'audio della fotocamera Ma sto usando l'audio del computer perché non ho i soldi e non posso comprarmi un microfono fico Quindi automaticamente si sentirà un po' così Abbiate pazienza, quando diventerò uno youtuber famoso tipo PewDiePie Avrò anch'io la Ferrari con dentro il microfono integrato Fino ad allora purtroppo l'audio è questo, abbiate pazienza Allora iniziamo subito dai canali, allora iniziamo dal primo Il primo canale è quello di Rastro, lo vedete qua Allora è un ragazzo che fa diversi video, è parecchio forte, a me piace davvero tanto Fa molte cose, vedo con i lower, ci sono tante fenati, fenati caduta C'è un po' di tutto ragazzi, soprattutto però moto, moto GP vedo Vedo tanto moto GP, moto e quant'altro, c'è anche qualcosa di Minecraft Quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi, seguitelo, basta un click, basta schiacciare qua sopra Passiamo al prossimo canale, quello di Rikki04 Rikki04 che anche lui ha già un po' più iscritti di me perché ne ha 318 Quando sto registrando questo video E fa molte sponsorizzazioni anche lui, fa anche dei Fakiu Quindi Pokemon Go, Son The Tutorial, Crash Royale Insomma c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, tante sponsorizzazioni anche di qua Quindi vi raccomando passate sul suo canale e iscrivetevi, ok? Basta anche qui un click Bella tra l'altro anche la grafica, complimenti Rikki Andiamo poi avanti, qua c'è ProGamerIta Ok, qua troviamo anche tutti quanti i vari link per Twitter, Instagram, Facebook, Youtube E qua c'è un po' di tutto e di più Lui carica prevalentemente, vedo video di Minecraft C'è tanto Minecraft qua Vlog, vlog della domenica Si vede che la domenica è un po' più libero Quindi può fare anche i vlog E ci sono anche gameplay di sparatutto, shooter in prima persona C'è anche la Capta, è figo, bello Quindi insomma c'è tanto Minecraft, eh Tanto Minecraft Quindi mi raccomando iscrivetevi ProGamerIta Andiamo avanti, col prossimo è quello di Samuele Mythic Channel Lo vedete, qui è un ragazzo che anche lui non ha moltissimi video ragazzi Però, beh, voi iscrivetevi E si parte sempre dai piccoli video fino a diventare dei grandi YouTuber Quindi qui trovate anche, c'è giochi bizzarri C'è un po' di tutto, c'è qualcosa di carino di Minecraft Andate a vederlo, eh, mi raccomando Poi abbiamo Scorpione 2004 Qua c'è scritto un Giacchi Non so se forse probabilmente è il suo nome vero Forse sarà, non lo so Giacomo, Giacchi Non ne ho idea, non ne ho idea Comunque c'è tanto Minecraft C'è tanto Minecraft L'ultimo video risale a tre giorni fa da oggi che sto registrando E qua sotto c'è scritto 1708 ragazzi Non so se uscirà proprio oggi il video Il tempo che lo edito e tutto quanto Però poi uscirà fuori Però ha parecchi video Lui ha parecchi video Qua carica altro Ce ne sono molti altri ancora Quindi c'è Slider, io vedo qua E anche qua molto molto Minecraft Poi abbiamo Sirius Sword Il canale di Sirius Sword Anche qua trovate tutti quanti i link Trovate, trovate anche la sua pagina di Facebook Trovate E mette un po' di tutto C'è Goku, c'è Dragon Ball C'è un po' il video così del calcio C'è Goku, smerda, vegeta Ma what the fuck Tug life nei videogiochi Va bene, ok, d'accordo C'è un po' di tutto C'è un po' di tutto ragazzi Quindi passate anche Naruto Storm Versus 4 Naruto vs Sasuke Story mode Uh, fico Questo deve essere bello Quindi mi raccomando Guardate anche questo è il canale Di Sirius Sword Poi abbiamo Dairon Il canale di Dairon Anche lui qui non ha molti, non ha molti video Eh, però Ha delle cose, delle cose carine Quindi supportatelo Gli iscritti comunque sono già 115 Queste persone hanno bisogno di incentivarsi Questi youtuber, youtuber così piccolini Giustamente hanno bisogno di motivazione Come me che sono un piccolo youtuber Ma grazie a voi crescerò Diventerò grande Quindi mi raccomando Iscrivetevi anche qui al canale di Dairon Poi andiamo avanti C'è Di puntato e puntato channel Terenzio Enzino Channel Con questo Yoblo E questo E lui fa Tipo FarmVincivulator Ho visto che c'è un sacco di video di questa roba Eh Anche Virtual Skipper Giochi un po' particolari ragazzi Eh Sono giochi un po' particolari Se vi piacciono sono molto belli Perché lui vedo che è parecchio assiduo Soprattutto In FarmVincivulator Come vedete poi è uno che Pubblica abbastanza manetta Tre giorni Due giorni Un giorno 16 ore fa Tre ore fa Adesso Domani Cioè anche il futuro riesce a pubblicare Quindi iscrivetevi anche qua ragazzi È un canale piccolino Quindi aiutiamolo Aiutiamolo Poi abbiamo GaiasPlayer Che ha 527 iscritti ragazzi Aiutiamola a crescere Perché questa ragazza fa dei gameplay Su tutto Tutto ma soprattutto Quanto ho capito Guardando il suo canale Gli piacciono le botte da Orbi Perché Spara dentro anche La WWE E quindi WrestleMania a manetta E E Raw a manetta Poi c'è C'è proprio un po' di tutto Cioè giochi Asphalt Poi c'è Qualcosa di Minecraft Insomma Fa veramente Un sacco di roba Fa un sacco di roba E quindi Ragazzi Iscrivetevi al canale Di Gaias Che è molto molto bello Poi abbiamo Mazzo Mazzo NBA 2K Che qui Mette i vlog Mette i vlog Tanto Ho visto questo video Dove Umilia un ragazzo Che si era collegato Per cercare di Scassarlo Di Umiliarlo Ma È stato un fail Assurdo Da parte dell'altro ragazzo Perché Mazzo Gli ha fatto giustamente Il mazzo Quindi Iscrivetevi anche Al suo canale Abbiamo poi The Best of Football Lui carica Tanti Tanti video Per quanto riguarda Giustamente il football Cioè Se no Non si chiamerebbe The Best of Football Ma si chiamerebbe Che ne so The Best of Carling E pubblicherebbe Video del Il Carling Ma che cazzo Di sport è Il Carling Vabbè E quindi Mi raccomando Iscrivetevi anche Al canale Di The Best of Football Supportiamolo Perché anche lui Ha tanti tanti video Tanti tanti video Vai vai Paolino C'è anche Paolino Poi andiamo avanti Andiamo avanti Ne abbiamo ancora un bel po' Abbiamo Bellox Official Covers Lui Allora Non so quanti iscritti Abbio Perché non si vede Non c'è scritto E' un ragazzo Molto brillante Non ha Non ha molti iscritti Lui fa cover Con il flauto traverso Credo Scusami Bellox Non so se è flauto traverso O meno Non me ne intendo tantissimo Onestamente Però fa tante cover Ed è anche molto 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 bravo Molto bravo Anche tra l'altro Molto molto bravo Tra l'altro anche Cover Di canzoni Di manga Tipo L'attacco dei giganti E robe del genere Andiamo avanti Quindi iscrivetevi al canale Supportatelo Supportatelo Poi abbiamo I Pitbull Free time Abbiamo i Pitbull Che sono questi Tre ragazzi Sono questi tre ragazzi Ho provato a vedere Qualche video Sono totalmente Fuori di testa Ragazzi Non ho capito Se siete in tre O in due Perdonatemi Però sono veramente Fuori di testa E aiutiamoli Stimoliamoli A pubblicare video Perché Sono fuori Ragazzi Sono fuori Quindi iscrivetevi Al loro canale Poi Andiamo avanti Abbiamo il canale Di Butti Abbiamo il canale Di Butti Anche qui Non molti iscritti Quindi aiutiamolo Anche lui Iscrivetevi al canale Mi raccomando Seguitelo Perché Anche lui Lui carica Abbastanza spesso Carica Quindi vede Tre settimane Due Una settimana Una settimana Quattro giorni fa Quindi Ho parecchi video C'è sia Minecraft Che anche Clash Royale Ho visto che c'è Prevalentemente c'è Minecraft E Clash Royale Sono questi due Sono Quindi mi raccomando Iscrivetevi anche Al suo canale Poi abbiamo il canale Di Mona 2.0 E Mona 2.0 Che ha Pochini come iscritti Però insomma Aiutiamolo Aiutiamolo Aiutiamola Cioè Mona Mona Che Chi è veneto Probabilmente Sa anche cosa Vuol dire in veneto Mona Che cos'è la Mona Adesso non so Io Boh Vabbè Comunque Chiudiamo sto discorso Che mi sto infognando Allora Quindi mi raccomando Aiutiamo Mona A crescere Iscrivetevi al canale Basta sempre Un click Qui ragazzi Anzi Mi scrivo Pam Mona Hai vinto in diretta Proprio un iscritto Così Andiamo poi Qua Abbiamo Galaxy Y T Galaxy It Che carica Tanti video Di pvp Cioè Di pvp Di minecraft E sono anche belli Ragazzi Sono anche belli Li ho visti Quindi guardateli Anche voi Lasciategli un bel like E mi raccomando Iscrivetevi al canale Perché è molto bravo Nel montaggio Non so se faccia lui O se qualcuno Gli da una mano Insieme con qualcun altro O lui O lei Che sia Non lo so Però È molto molto bravo Sono molto belli Questi 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 montaggi In pvp Di minecraft Poi abbiamo Frizzy TM Trademarks Quindi Ha solo due video Uno di 3 secondi E un altro di 50 secondi E ha 55 iscritti Praticamente ha un rate Molto più alto del mio Per quanto riguarda Il numero di iscritti Rispetto ai video che ha Non capisco come faccia Sei un mito Frizzy Quindi Incrementiamo di nuovo Questo Questo Canale Crescendo Perché non ha Né copertina Né la faccia dell'utente E ha 55 iscritti Quindi Aiutiamolo Aiutiamolo molto Poi abbiamo I canali Rove Rove Anche lui Fa queste La Noire Caso risolto Questi video Che sono molto belli Sono davvero Davvero Molto molto belli Io Consiglierei anche Di continuarle Perché è stato Molto molto bravo Davvero E poi fa un po' di tutto Fa un po' di tutto Come vedete Fa tutti quanti Video Anche Stix È un bellissimo gameplay Adesso Bravo Non so che cos'è Non l'ho ancora visto Però Trin Trin è bello Molto bello Quindi mi raccomando Supportiamolo ragazzi Supportiamolo Supportiamolo Il canale di Rove Poi abbiamo Atlantis Design Atlantis fa Praticamente Se voi siete Dei youtuber Emergenti Che state crescendo O comunque avete un canale Lo volete arricchire Lui può farvi banner Può farvi la copertina Del canale Quindi è una cosa Una cosa molto 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 buona Perché insomma Per chi Non ha magari L'abilità di utilizzare Photoshop Se non Se non Adobe After Effects Se non Sony Vegas O tantissimi altri Programmi Atlantis Vi può dare una mano Quindi contattatelo Iscrivetevi al canale E lasciatevi un bel like Poi abbiamo Due scimmie sul tubo Ragazzi Alla intro più epica Del mondo Alla intro più epica Del mondo Dei video Devil Whiting È la serie Che stanno portando Sul canale Che hanno sul canale Ragazzi Sono grandissimi Fanno i doppiaggi E non vi voglio Spoilerare nulla Quindi Andatelo a vedere Fanno le parodie Dei videogiochi E sono molto molto bravi Adesso stanno facendo Appunto Devil Whiting Che è molto molto bello Tra l'altro io lo adoro Come gioco L'ho stra giocato Detto questo Ok Detto questo Siamo di nuovo qui Sul canale Sul mio canale Ok ragazzi Quindi Vi ricordo ancora una volta Iscrivetevi al canale Basta un Non è necessario Iscrivetevi a proprio Grazie Lo so Mi raccomando Iscrivetevi Basta Basta semplicemente Schiacciare qui Su iscriviti Lasciate uno Spollice In su Sul video Mi raccomando Ogni domenica Alle 19.30 Faccio uscire un video nuovo Adesso vedo se riuscirò A aumentare la frequenza Mettendo un video Infrasettimanale Con le sponsorizzazioni Aspetta però Non ci sono Non ci sono No Devo comparire Aspetta che faccio Un clap Un clap E compaio Guarda Bene ragazzi Eccoci tornati qui Mi raccomando Allora supportate Tutti quanti i youtuber Troverete anche Il link Del loro canale In descrizione Sono 20 canali Youtube Io cercherò di farne Sempre tanti 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 Vi ricordo che Per essere sponsorizzati Dovete Iscrivervi al canale Lasciare un like E lasciare Nei commenti L'hashtag Questo Questo Con scritto Ciao Gianni Miao In maniera tale Che vi posso sponsorizzare Nel prossimo video Ragazzi Grazie ancora davvero Per i 200 iscritti Anche se non ci sono Ancora arrivato Quando uscirà il video Chi se ne frega Ci arriverò Intanto Vi ringrazio davvero Tutte quante le persone Quando vi iscrivete Mi raccomando Rimanete attivi Perché ci tengo Davvero Davvero tanto Intanto volevo ringraziarvi E fatemi sapere Nei commenti Se questo video Vi è piaciuto Se volete più Sponsorizzazioni Se volete più video Di minecraft Cazzeggio Craft Insomma fatevi un giro Sul canale Basta andare Dove c'è scritto Video Cliccate là sopra Vi compaiono tutti Quanti video Basta scorrere Anche nella pagina principale Fatemi sapere Nei commenti Quali sono i video Che vi piacciono di più Detto questo Io ragazzi Vi ringrazio ancora Di cuore Per gli iscritti Ci vediamo Alla prossima Bella ragazzi E boom baby Alla prossima